benvenuti e buonasera al campo san germano di agnano io sono girano ciccarelli e oggi siamo qui per apolidi calla e inizia la partita la palla non è uscita pernà col destro grande occasione per gli apolidi e poi contropiede pizza non ci arriva mea scivola incredibile pasticcio perna può andare col destro paratona da parte di d'agostino capuano controlla e difende cusano perna la controlla quanti alla porta sterza perna col destro 1 a 0 apolidi segnato il bomber perna palumbo è solo davanti alla porta uno contro 1 e 2 a 0 per gli apolidi un tazza di palumbo vincente non bello esteticamente ma efficace 2 a 0 apolidi non è che rimbalza micarelli pizza al volo pizza 1 a 2 la riapre quantomeno per qualche speranza accorcia la squadra cala il so perna praticamente solo con la portiere perna 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 chiude i discorsi fa 3 a 1 per gli apolidi titoli di coda al termine quasi del triplice fisco c'è anche la marcatura del terzo gol per gli apolidi finisce 3 a 1 trionfa la squadra di casa e danni del cala